Everybody f*** it, lose it E' arrivata l'Xbox One come avete potuto vedere dal suo video Se non l'avete visto vi linko comunque il video in descrizione anche se non penso serva molto Perché molti di voi, la maggior parte di voi lo conoscono Sono su Overworld, è una mappa abbastanza carina E diciamo che non è una delle mie preferite Cioè la mia preferita in assoluto non c'è, non esiste No forse Octane penso, non mi piace parecchio quella mappa Non so perché molti la schippano però vabbè E sono con una classe di cui non mi ricordo quasi nulla Cioè né perk né merde né cazzi né mazzi e tutto quanto Mi ricordo solo l'arma che è il Mtar Vabbè il Tar in pratica che ora è diventata una mitraglietta Non è più un fucile d'assalto Con soppressione della canna come cazzo la si chiama Che non ho idea se silenzi o meno ma rende lo sparo molto più preciso E lo reputo comunque un ottimo accessorio per l'arma E scusate mi sono strozzato Merda porca troia guarda sto cara armato E niente diciamo ho un po' di cose da dirvi Non so come dirvele ovviamente quando uno magari si prepara tutti i bei discorsetti Prima del gameplay Poi arriva il momento di dirgli i discorsetti E porca troia mortacci tua come cazzo voglio vedere la killcam Voglio capire come cazzo hai fatto Ma vaffanculo Porca puttana Lui che qui ca... Non so across the map jumping Killing jump è quello che cazzo te pare Vabbè comunque ho un po' di cose da dirvi Allora innanzitutto riguardanti le console nuove Io purtroppo non me la posso ancora permettere diciamo Perché con il lavoretto che sto facendo come ben sapete Non ho ancora raccindato abbastanza soldi per riuscire a farmi la nuova console Ma probabilmente parlo per me ovviamente Al diciamo non voglio esagerare 90% 95% anche un buon 95% Prenderò l'Xbox One Perché l'Xbox One? No è meglio la PS4 I dislike cazzi e mazzi No Semplicemente io l'Xbox Ho provato sia la Playstation 4 Ho avuto l'opportunità di provarla Da Euronics mi pare Sì da Euronics E vaffanculo non ci sono riuscito a ammazzare tutti e due L'ho provata da Euronics Ho giocato a FIFA Tra l'altro con la mia ragazza Ogni volta che c'era la demo Barcellona Real Madrid Ovviamente ogni volta che io segnavo Lei decideva di cambiare squadra Ho segnato il Barcellona No ma io preferisco il Barcellona Ho segnato il Real Vabbè ma sto joystick non funziona Dammi l'altro E alla fine è andata a finire Ho segnato tre gol Però in realtà ho perso Perché l'ultima squadra con cui sono andato Stava perdendo Che era il Barcellona Quindi avrebbe vinto Tra virgolette lei E che stavo dicendo Porca puttana Questo stronzo col cazzo di cecchino di merda Ficcatele al culo E stavo dicendo Ho avuto modo di provarle tutte e due Non su Call of Duty ovviamente Ho avuto modo di provarle su due giochi diversi Che uno era Forza Motorsport da Frax E FIFA da Euronics Quindi non posso dire Meglio un'altra Meglio quell'altra Anche perché sono pressoché simili tra di loro Però la mia preferenza va molto sull'Xbox One Cioè vi spiego Io già da quando ho avuto PS3 Poi mi sono fatto prestare l'Xbox da Daryl E mi sono trovato molto ma molto meglio con l'Xbox Quindi è nato diciamo un amore per l'Xbox che prima non esisteva L'Xbox One L'ho aiutato Cioè diciamo sono stato da Frax Quando gli è arrivata Ha fatto tipo un urlo Si è messo i pantaloni sotto Cioè sopra quelli del pigiama Non lo so perché Stava veramente venendo Ha avuto un orgasmo multiplo Quando ha sentito il citofono E Ah quello è un cecchino Diciamo che Mamma mia ma Perché cammino così male Sono così stronzo No pezzo di merda Non mi ammazzo Un'altra volta Te col cecchino del cazzo E ho avuto un modo di provarla Innanzitutto L'epicità pura Nella grafica di Forza Motorsport Cioè è qualcosa di assurdo Cioè io che non guido da parecchio tempo Perché ho fatto il botto con la macchina Quindi sono impossibilità da guidarla Mi sono messo su Forza Motorsport Ho provato la sensazione di guida Che non provavo da tempo Da tempo tempo fa E mo' Bando alle ciance Diciamo che È una console Che merita veramente tanto Quanto merita la Playstation 4 Perché io ho provato appunto FIFA Ed è qualcosa di spettacolare Cioè è veramente spettacolare È un gioco fatto benissimo Ed è riuscito fottutamente epico Nelle nuove console Che penso A mio avviso Tra Diciamo Tutti i giochi Che hanno fatto il cross-gen Ovvero Da vecchia generazione a nuova FIFA è quello meglio riuscito Cioè sinceramente parlando E comunque io vorrò prendere Cioè voglio prendere l'Xbox One Perché è di impatto e tutto quanto Anche le anteprime Perché le anteprime diciamo Contano molto sulla scelta della partita Della console Detto partita perché sta per finire la partita Quindi devo sbrigarmi a parlare Sulla scelta della console contano molto E un'anteprima che io voglio assolutamente È Titanfall Che non è disponibile su PS4 Quindi volendola con tutto il mio cuore Ho deciso di prendermi la One Ovviamente sempre con dare i soldi Di Darryl non posso dire nulla Perché ancora non ho idea Diciamo che Ah una cosa che volevo dire Il joystick è comodissimo Non so come si fa a dire che è scomodo Io ho trovato Dove sembrare strano Non molto comodo quello della PS4 Comunque ragazzi Diciamo che Vabbè faccio un'altra partita Perché tanto Ho tante cose da dire Da parlare a Bamber E tutto quanto Quindi posso continuare a parlare Allora Il joystick della PS4 È Sì È molto simile alla PS3 Però È troppo piccolo Cioè Non Non me ci trovo per niente comodo Infatti giocando a FIFA Oltre al fatto che comunque È bella Strikezone dai Oltre al fatto che comunque Non Non ci ho mai giocato sul next gen Non mi ci trovavo bene Ma proprio Cioè Il joypad Lo sento proprio diverso Invece quello dell'Xbox One Che ho provato È molto simile A quello della 360 Quindi mi ci trovo molto meglio Invece quello Della PS3 Alla PS4 Cambia completamente Si può dire Quindi Come ben sapete Ovviamente uno Vede anche La maneggevolezza Delle varie cose Perché è quella Che permette Un giocatore Di essere Abbastanza forte Come non lo sono io E non mi ricordo neanche Che risultato ho fatto Questa partita qua Quella che era Ovviamente Ci mette tipo Gli anni di Cristo a caricare Quindi ci vediamo Appena finito il caricamento Bella ragazzi Eccomi qua di nuovo E faccio l'intro Ogni fottuta partita Che inizio E comunque Stavo dicendo Ritornando al discorso di prima Ovviamente Questa mia scelta Di prendere L'Xbox One È un po' scomoda Per Noi due Youtubers Ovvero io e Daryl Perché magari Uno si vuole fare Una partita O anche registrare Ognuno a casa propria Verrebbe un pochettino Diciamo Difficile La situazione Perché appunto Non è possibile Giocare Con Xbox E con Playstation Assieme Però A livelli di Gameplay Con altri Magari Youtubers O tutto quanto O anche a livelli Proprio di Come si dice Vaffanculo Mi ha preso da dietro Di Vaffanculo Non mi viene il nome Cazzo Di Esclusive Ok Eccolo E a livelli di esclusive Magari Potrebbe essere Un rapporto più ampio Con appunto Youtube Perché Lui volendo Potrebbe fare Watch Dogs Le esclusive Comunque Playstation 4 Io invece Quelle di Xbox One Anche per avere Un range più ampio Tra di voi Ovviamente A livelli anche Di giocabilità Con i propri fan Dare il gioco Con PS4 Con quelli Che si faranno La PS4 Io gioco Con i quattro Gatti Che si faranno La One Quindi Sarà anche Più comodo Per me Ora Io ho fatto Una serie Di uccisioni Epica Prima E non riesco Più a fare Nemmeno Un'uccisione Questa cosa Mi va Veramente al Cazzo Perché Questo gioco Io non ci riesco A giocare Molto normalmente Come facevo Con gli altri No Io faccio O serie di uccisioni Da 10 Uccisioni Di fila Oppure Non faccio Più un cazzo Là ci stanno Troppi nemici Quindi fammi fare Un giro largo Levali dal cazzo Ecco il Trinity Allora Magari se Sto Trinity Non mi prende Ok Dove cazzo stanno Io non ne vedo Baffanculo Elicottore di merda Sto andando anche In negativo Una cosa impressionante Comunque Ora parliamo Un po' Di Call of Duty Ghost E Call of Duty Ghost È un gioco Abbastanza ben riuscito Perché Dando un'opinione A quanto personale Assomiglia molto Ma molto Cioè mi ricorda molto Modern Warfare 2 Come ben sapete Modern Warfare 2 A mio avviso È stato Il miglior code In assoluto Ora io avevo la valigetta Ma non me ne ero neanche Creso conto Forse perché Non lo so Vabbè comunque È stato il miglior code Riuscito in assoluto Quindi Cioè diciamo che Porco D C E Essendo Essendoci Una somiglianza Molto netta Con A mio avviso E poi Non so voi Che cosa pensiate Essendoci Una gran somiglianza Con Modern Warfare 2 Io non riesco a finire Un discorso Perché mi interrompo da solo C'è una cosa impressionante Essendoci questa Porca Troia La chem Vaffanculo Essendoci questa Grande somiglianza Mi piace molto Mi piace molto 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 Però Non riesco a fare Delle partite Buone Cioè prima ho fatto Un'ottima partita Ottima diciamo Tra virgolette Cioè non sono Un feeling negativo Se questo si leva dal cazzo E non mi spinge Magari Qua non si può andare Vero no Non si può andare E invece questa partita Sta andando di merda Proprio veramente di merda E quindi Diciamo che Sono un po' A un po' Così Un po' Cosà Dove cazzo sta Ho fatto anche la rima Olè Allora Questa classe è veramente ottima Perché Per un semplice fatto Io uso spesso I caricatori aumentati Cioè diciamo Su tutte le mie classi Ci stanno i caricatori aumentati Perché uso di solito L'Honey Badger Ma Siccome questa Arma Ha una capienza Eccezionale A mio avviso Perché 38 colpi Semplicemente Col caricatore normale È veramente una cosa Epica Allora Può anche essere utilizzata Con impugnatura E che ne so Il silenziatore Quello cazzo vi pare Cioè Poi Chi più ne ha Più ne metta Comunque Merda Ma non si distrugge Con l'accoltellamento No Non si distrugge Ora ok Si è distrutta Grandissimo bomber Io sono fissato a dire bomber ormai Cioè Guardando i video di Gabo di Squared Mi viene da di bomber Con ogni cosa Ed è veramente brutto Perché sembra che lo copio Ma giuro Non lo voglio copiare Sul serio Mi squilla il telefono Perché ormai Tanto si sa che Se non squilla il telefono Axenic Non è un gameplay Oh 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 Cavallo No Merda Stavo in serio Vaffanculo Comunque Non voglio parlare Troppo presto Ma mi sto riprendendo E lo sapevo Non lo dovevo neanche pensare Meno male che è finita qui la partita Sono finito primo Della mia squadra La mia squadra ha fatto Una cacata impressionante 820 Ragazzi scusate per il video Un po' troppo lungo Diciamo Ho dato una botta al microfono E le cose che vi ho voluto dire Ve le ho dette quasi tutte A parte che vi voglio tanto bene Siamo arrivati a 2500 iscritti E vi ringrazio tantissimo Per i 3000 iscritti Per un video speciale Probabilmente Qui da Axenic è tutto Da Grana Sì tutto bella